barba bianca rossa barba bianco rossa si chiama lui ma la Juve è realmente su Sancho in qualche modo Sancho del Manchester United genio di sorregolatezza più sorregolatezza che genio però grande talento Antonio tu ne sai qualcosa di questa vicenda no io mi dispiace deludere ma di mercato parlo quando so su questo non so quindi non so dire né se è vero né se non è vero e molto chiacchierate in Inghilterra e in Germania è stata anche ripresa da più parti quindi di solito siccome mi fido quando le notizie non vengono criticamente riprese dai soliti noti ma vengono rielaborate vuol dire che qualcosa di base c'è però dai canali nostri non ho contezza di continuità nel monitoraggio la seconda domanda la seconda domanda vediamo chi è che la pone la pone Gabwell Gabwell 5 un modulo più offensivo è assolutamente escluso? cioè non domani non sabato non Firenze ma nella testa di Allegri 4-3-3 3-4-3 4-4-2 con gli esteri non è escluso assolutamente lo insegna la storia lo insegna la storia che l'ha visto giocare anche con 5 punte trasformando Manzucic lo insegna la ricerca iniziale di un tridente che poi è stato rielaborato quando si è ritenuto più solido il 3-5-2 è chiaro però che queste evoluzioni saranno legate all'adattamento delle caratteristiche dei giocatori e soprattutto alle esigenze degli avversari Milano penso che qualsiasi fosse stata l'inclinazione tattica non avrebbe mai rinunciato a giocare in quel modo perché è stata la chiave di volta della vittoria mentre chiedono di De Paul De Paul mettiamo sulla terza domanda però ragazzi non sempre solo mercato cerchiamo di stare su anche questo blocco di partite importanti tra l'altro si è aperta la vendita libera per Juventus Inter e c'è già praticamente da quello che ho capito siamo veramente a un millimetro dal sold out Tristotele ma Iling Junior perché non gioca? Cioè più che in chiave mercato dovremmo chiederci forse se potrebbe andare via gennaio non lo so ma io non ti chiedo questo perché la domanda di Tristotele è proprio sul campo perché non gioca? Ma no non gioca perché lui è stato tra i primi ad avere delle occasioni ed è stato tra i primi ad essere trattenuto e quindi crevendo in un giovane che fa parte del progetto è chiaro che c'è una alternanza nei ruoli e nelle fasce in questo momento a Juventus ha degli altri giocatori che sono importanti e li fa girare perché poi in particolare se no la risposta può sembrare passiva perché finora in una serie di partite dove avrebbe potuto trovare spazio era più importante avere calciatori meno offensivi cioè alipure e più portati magari a esercitare il ruolo di terzino faccio un esempio sempre San Siro ma giusto per restare alla più vicina con Postic che è un giocatore capace di abbassarsi in un certo modo e con Guea che ti dice lui stesso che ha giocato più volte come quarto della difesa terzino nella necessità di bloccare gli esterni oltre a tamponare i terzini del Milan è naturale che erano caratteristiche più idonee alla singola partita questo non è assolutamente una bocciatura per Iling che rimane uno dei fiori agli occhielli della promozione dei giovani da parte di te però sappiamo Antonio che scalpita un po' e che non è contentissimo magari potrebbe tu immagini tu immagini possa esserci un suo prestito che poi lui ha un contratto scadenza 25 però il prestito lì dipende da tutta una serie di fattori perché la scelta dei prestiti sono fatti solitamente per scelta societaria a seconda delle gradazioni di crescita ovvero ci sono giocatori per i quali si ritiene sia più importante un part time ma lavorare costantemente accanto ai campioni ci sono dei giocatori invece per i quali si ritiene importante la continuità ai fini della maturazione esempio classico è stato Sule in questo caso ci può essere una variabile diversa se la sua voglia di spazio che però non è malcontento è normale voglia di spazio di un ragazzo che ha dimostrato di poterci stare che chiaramente in una squadra meno strutturata e più semplice se sarà lui a chiedere il prestito ai fini di una di una maggiore possibilità di impiego non credo comunque a rischi di scadenza eccetera perché è un patrimonio della Juve e la Juve non se lo farà sfuggire allora Monociglia quarta domanda rispondiamo veloce poi liberiamo Antonio grazie Monociglia volevo da Barillà un'analisi su McKinney McKinney scritto qua un po' all'americana a mio avviso secondo Monociglia è colui che in questo momento ci sta permettendo di mantenere un certo equilibrio anche in mancanza di altri giocatori quindi un elogio speciale non so se possiamo parlare di giocatore chiave Antonio tu hai sottolineato quanto questa cosa sia un po' più addosso a Rabiot però McKinney giocatore chiave no ma giocatore prezioso sì perché prima di tutto per la dottilità come abbiamo visto ha giocato esterno ha giocato mediano e soprattutto è tornato a giocare a calcio come sta fare subentrato chiamandosi nelle realtà secondariamente per caratteristiche perché lui è un combattente ma non disgiunge da un filo di qualità quindi di apertura eccetera e in una Juventus che ha questo tipo di inclinazione e che la porta a essere solida e contemporaneamente a slanciarsi è importante ma terza cosa credo che sia prezioso per come si approccia è un giocatore che se sta fuori non fa polemiche se entra in campo a partita in corso dà il massimo quindi è un giocatore prezioso l'unica caduta di stile è stata quella del padre quando è entrato in scelte tecniche con un tweet dal quale però poi ha chiesto scusa però Antonio da quando in generale che padri figli moglie e zii farebbero bene a non intervento è vero è vero caso vuole che da quando l'ha tweetato Allegri ha fatto così ma che è l'interno è una casualità non è una questione di casualità anche perché se ogni padre che scrivesse si deve cambiare la ruota non finisce mai credo che molto più semplicemente quando UEA ha avuto modo di prendere delle misure diverse e quando soprattutto si è aperta un buco in mediana perché fa giove non è rientrato più nelle disponibilità è stato più naturale fare quel tipo di gioco secca la nucia non dimentichiamo che si è giocato anche con il rabbio esterno alcune volte quindi sono esterni per modo di dire falso l'annugi l'ultima domanda voglio liberarti Antonio perché so che sei impegnatissimo un'ora e dieci mi sembra veramente già bella intensa per il maestro Barillà l'annugi due parole da ambo le parti per come l'hai capita per come la sai sul caso sulla gestione del caso Bonucci volendo puoi inserire anche aggiornamenti sulla questione della insomma causa legale che dovrebbe essere affrontata dalle parti io devo essere sincero io sono dispiaciuto per come è finita la storia e quindi sono dispiaciuto per come l'ha gestita Bonucci io credo che se nella storia del calcio italiano nessun big pur alla fine scaricato pur alla fine non trattato bene non ha mai raggiunto questi livelli vuol dire che siamo di fronte ad un eccesso guardate guardate quante bandiere hanno avuto problemi anche più iconografiche di Bonucci e non si è mai arrivato ai ferricorti così a me dispiace perché Bonucci era stato che che di Cagui era stato messo più volte in condizioni di scegliere un addio diverso ma a me dispiace soprattutto per un altro motivo perché i calciatori bandiere che non si arrendono all'età o ritengono di essere in ragione a fronte del torto di chi li giudica al tramonto hanno un solo grande sistema per smentire chi fa queste scelte andare altrove e dimostrare che è stato un errore scaricabile Bonucci doveva fare semplicemente questo come fece per fare un esempio vicino alla realtà bianconera Pirlo quando fu allentonato dal Milan è diventato faro delle Juve purtroppo i fatti in questo momento dicono che la Juve è solida con una difesa seconda milione in Serie A imbattuta in tante partite e Bonucci è alla seconda esclusione di fila a Berlino credo che in questo momento i fatti stiano dando ragione ma anche il fatto di andare di annunciare pubblicamente di andare per vie legali è piuttosto fraturoso io non voglio andare nel merito perché ognuno ha le scelte che ritiene però il fatto che nessuno è mai arrivato a tanto nella storia del calcio mi fa pensare ad un eccesso io credo che per come è stata bella la storia si poteva gestire diversamente e Bonucci aveva tutto il diritto di far vedere quanto è ancora forte giocando altrove bene e dimostrando quindi che la Juve se così era si era sbagliata io avrei fatto così piuttosto che andare per carte bollate Antonio Barillà grazie grazie mille buon lavoro grazie a voi buona giornata grazie ti aspettiamo presto ti aspettiamo presto grazie davvero ad Antonio Barillà che ringraziamo per questa ora intensa cosa vi resta ragazzi cosa vi resta Dario ma sicuramente più idee più chiare anche soprattutto riguardo alle prospettive della Juventus perché comunque siamo in un periodo in cui che pensa a livello di mercato vengono proposti tanti nomi mi stavano chiamando scusami ci senti? vai 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 ok no io dico che siamo in un momento dove vengono proposti tanti nomi ma molti derivano comunque anche dagli procuratori stessi comunque si cerca anche di capire abbiamo capito che potendo scegliere la Juve la Juventus sceglierebbe Turan ma infatti l'avevamo capito l'avevamo capito nei scorsi mesi ne abbiamo parlato oggi al bollino questa cosa però è molto interessante la prospettiva di vedere nuovamente scusami se mi permesso di chiamarla una situazione simil Blauvic nel senso che se ci ricordiamo qualche due anni fa ormai se non mi sbaglio la Juventus decise anche di anticipare l'investimento oppure il regime finanziario non come quello attuale però comunque abbastanza difficoltoso anche all'epoca cercando anche comunque di non far sopraffare dalla concorrenza ma per quello ho chiesto prima Antonio se anche Turan che inizia a avere anche dei buoni interessamenti dall'Inghilterra che mi dicono possa essere un giocatore che per la Juventus possa valere magari un'anticipazione anche di investimenti Qual è stata la domanda più interessante secondo te Maurizio allora te le riassumo c'è stata la domanda sul modulo la domanda su Sancho la domanda su Ealing la domanda su McKennie e la domanda sul caso Bonucci queste sono state le cinque selezionate ragazzi vi ringraziamo Lanugi qua sotto è stato tra i fortunati ma insomma io vedo che ha rinnovato l'abbonamento Cammy Palermo e lo Zamblano sono al terzo anno sti ragazzi non noi ragazzi tra un po' superano Rugani come permanenza alla Juve i fedelissimi di Juventus i grandi Rugani qual è stata la domanda secondo te più azzeccata e la risposta più interessante Maurizio ma guarda mi è piaciuta molto la risposta sul caso Bonucci perché dobbiamo dirlo che è stata una cosa che ci ha un po' scosso anche se personalmente devo dire che dobbiamo distinguere i due Bonucci quello prima dell'anno che fece il Milan quindi il Bonucci diciamo prima del Milan e dopo il Milan perché credo che lui col fatto che il fatto di andare il Milan venne vissuto veramente come un tradimento perché lui all'epoca era sicuramente un giocatore di riferimento in quella difesa in quella squadra e come ha detto giustamente Barbellà mi è piaciuta molto la sua risposta perché poi da uomo di campo io penso che si debba rispondere solo in un modo parlo da arbitro arbitrando bene facendo bene le tue cose da giocatore facendo capire che sei quello e lui prima di andare al Milan era un giocatore fondamentale l'anno scorso purtroppo in contesti già particolari problematiche e tutto ma si era visto che era un giocatore che non poteva più rimanere nella Juventus secondo me la cosa brutta di Bonucci in tutti questi ultimi anni secondo me è sempre stato anche mal consigliato dalle persone del suo entourage ma io ho la sensazione che lui anche tenda a non ascoltare consigli perché per esempio ve lo dico perché so per certo che nell'intervista rilasciata in maniera repentina quasi istintiva e concessa a Travisani quella che l'intervista che è stata che tutti ricordate la video intervista io so per certo che l'entourage non so i familiari parlo l'entourage di gestione di Bonucci quindi a procuratore che ha detto assolutamente sconsigliata per loro era un no e lui ha fatto di testa sua va bene tre anni di abbonamento a Juventi Buspatia slipwalker ce lo ricorda minimo sette mesi e tre di lavori sociali io ricordo che mi ha fatto venire in mente che cosa che sostanzialmente è stata trovata il punto il punto di patteggiamento tra Tonali e la federazione per Tonali saranno dieci mesi di squalifica dal campo più otto otto che vengono compensati quindi sarebbe stata una pena la diciotto la formula fagioli otto di diciamo di extra ok che tra l'altro dovrà svolgere in Italia il Newcastle contestava questa situazione perché avrebbe essendo il grado giocatore di allenarsi per i mesi diceva fateli fare in Inghilterra invece no li deve fare assolutamente in Italia e seguire il percorso eccetera dimostrando dimostrando di ovviamente essere essere come dire di seguirlo convintamente un determinato percorso come pare che invece stia assolutamente cercando di fare Niccolò Fagioli 33 mesi per Andy Folk 33 grande grandissimo allora ma voi usate la parola scudetto Dario quando parli con gli amici usia per lo scudetto per la Juve sì perché ho sempre detto da inizio anno che la Juventus deve essere competitiva per lo scudetto il che significa non terminare a meno 15 dalla prima posizione ma che significa come dicono anche i giocatori a marzo vedere dove dove siamo e cercare di di lottarla fino alla fine è uno step di crescita che questa squadra e il percorso e il progetto tecnico deve fare perché altrimenti altrimenti troverei anche delle difficoltà a giudicare in crescita questi questi ultimi tre anni Maurizio tu la usi la parola scudetto? Io la parola scudetto devo devo dirti che ogni tanto mi scappa non ancora ogni tanto mi scappa ma legata al fatto io sono d'accordissimo che la vittoria di domenica è stata fondamentale e soprattutto sarà fondamentale questa giornata perché noi abbiamo una sfida che non dobbiamo sottovalutare sono convinto che Allegri quest'anno queste partite qua non le che giocheremo prima delle partite di Inter Napoli e Milan che saranno il giorno dopo e comunque potrebbe essere magari per 24 ore la Juventus prima in classifica hai sentito cosa ci ha detto Antonio da tre anni tre anni che non sei e questo e questo sarebbe a mio avviso anche un messaggio alle contendenti molto importante perché sono convintissimo noi siamo tifosi quindi si parla da tifoso quest'anno molti tifosi di Inter Milan Napoli ci consideravano una squadra che probabilmente faceva fatica a arrivare in Conference League adesso ti trovi lì e cominciano cominci ad aver paura perché poi stiamo parlando della Juventus e queste squadre sono quelle squadre che poi quando è il momento di vincere quando arriva come diceva sempre un mio grandissimo amico grande tifoso della Juve con cui ho visto tutte le partite finali di Champions finale di Coppa Intercontinentale ho visto tutto purtroppo il Covid se l'è portato via diceva sempre che noi siamo una squadra che quando le ciliese sono mature siamo davanti a tutti e quindi era e le ciliese ovviamente maturano a maggio che è il momento in cui si assegnano gli scudetti e se ne abbiamo vinte più di tutti aveva una grandissima conoscenza del gioco secondo me se restiamo lì è già il fatto di essere attaccati comunque alla vetta è un po' presto per saperlo è ventinove partite mancano quelle che mancano è molto presto è molto presto però essere lì fa tutte le differenze del mondo allora io ringrazio Maurizio Biggi ringrazio ancora Antonio Barillà che è stato con noi per oltre un'ora devo dire sempre un ospite super gradito super competente che ci aggiunge quel tocco magari un po' a volte di eccessivo realismo di eccessivo ottimismo apparentemente che però spesso poi trova riscontri con i pensieri in continassa e con la realtà Dario Pellegrini anche grazie ragazzi è stato un onore essere in vostra compagnia buonasera a tutti hai visto a Pisa sai anche che c'è è vero è vero figure in comune con Antonio Kailotto mi ha strappato un sorriso Luca quando fai questa domanda sullo scudetto agli ospiti sembra la mamma che chiede al figlio se si droga mi ha strappato un bel sorriso però ricordate come cantavano in Rocks and Music love is the drug nothing else quindi love is the drug amiamoci qua su Juventus e crediamoci stasera torna il Late Show domani alle 14 ascoltiamo Allegri poi Agresti Zampini in Monblano Tosi non so in che ordine ma ci saremo insomma grazie a tutti buon pomeriggio che bello Juventus non si fatica mai si andrebbe avanti per ore grazie regia ciao a tutti